ragazzi andiamo a scavare un po di oro col mitico parker nable e i grandi di gold rush amici era un po di tempo che lo volevo e cazzarola è spettacolare ragazzi vai sì 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 assolutamente sì che figata il bulldozer ragazzi il bulldozer non ci credo il bulldozer che figata ragazzi eccoci qua allora bella amici amici che gran figata il bulldozer amici miei allora ma se ti metto all'inizio non sarai più ok fai tra allora ok a tempo limitato mappa bello 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 un sacco di roba ragazzi ok allora mappa perfetto ah l1 si vede anche azze giocatore campo fuoristrada tutto in italiano grandissimo ok a tempo tutorial estrazione dell'ora sali su fuoristrada e saremo tutto in fuoristrada entra beh chiaramente è un ps4 ragazzi allora mostra i comandi acceleratori acceleratori accendi il motore guarda che ragionata qui che ragionata qui mi lasciamo un piano a mano ok perfetto il macchinario è estremamente meraviglioso oh da fuori perfetto ok perfetto andiamo andiamo dove dobbiamo andare io lo sapevo che è la mia dose di grafica però ci sta di brutto ci sta di brutto perchè alla fine ma dove dobbiamo andare ok scendi il map seleziona il pick up e poi seleziona restore e fermo oh se fermo fa fermo fa fermo fa fermo cazzo stai fermo tiro a mettere quella mano se cazzo allora apri black pad seleziona mappa ok e seleziona pick up restore ripristino forse ok perfetto accendi il gruppo elettrodino prendendo il bottone all'interno ok quindi il gruppo elettrodino è la oh cazzo oh che bello ok allora andamola in macchina e poi oh oh il narare davvero più felicitò mi togli il tuo cazzo di la lampadina ok la mano oh andamola 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 scendiamo il gruppo elettrodino che è questo qui giusto usa stop quindi accendiamo tutto giusto giusto si ok accendiamo tutto ok quindi la grande pompa giusto 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 la pompa se faccia andiamo sull'escavatore uuuh guarda che gira guarda che gira uuuh c'è già l'acqua c'è già l'acqua andiamo sull'escavatore ragazzi erano live velocissima eh perchè sono distrutto e credo che sia già quasi guarda l'escavatore ancora l'acqua ok ok ragazzi entra adesso entra e esco dal mezzo allora accendi il motore dell'escavatore ok cambiamo la realtà operatore da fuori si scelgo ah da sopra da dentro ok allora vediamo un attimo come a sinistra il marco a sinistra sinistra dirà ruota la cabina dei operatori madonna ragazzi che bordello macchina successiva panali prema oh sbagliato 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 ok si scelgo su ah finì in soli non pensavo che era più difficile si può vedere il colore quando io faccio così gira lui, quando faccio così la visuale quando faccio così mi cambio al mezzo con l'L1 qui seguiamo anche il freno e che ascoltiamo 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 Ok, veloce, andiamo a correre la schiena, Perfetto, questa è qui. Sì, mi metti. Giaio, giaio, ah, giaio. Questo è qui, quanta faccio lì? Sì, cosa succede il gioco? la macchina, la macchina, il meteo, il camion, il scavatore grande ecco questo esatto, un garazzo lo faccio show control aspetta che c'è quello lì? che c'è quello qualcosa di nuovo? che c'era ma forza mi viena vedi, qui va a destra sinistra che c'è quello che c'è? che c'è quello? che c'è quello che c'è? questo mi cambia la visuale ah no 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 ragazzi questo mi cambia la visuale questo alza e abbasso la chiusura questo mi cambia la visuale 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 oggi devo fare ancora un po di pratica bravo Allora il gioco è fississimo eh, se anche graficamente era un po' meglio, era... Oh oh oh, funziona! Sì, praticamente quando ci riempie tutto, questo qui non è niente male eh, da lui. Allora, farò andare avanti un ferito. Ok, perfetto. Perfetto ragazzi, perfetto, mettici, mettici. Scrivetemi sempre nei commenti ragazzi eh. Arrivo subito. Sono indietro stato in scatto, eh... Il dove che mi andava letto... Sono sono andato a 11 di sera. Ok allora dai. E' un po' di video che mi andava letto. un po' di nuovo Grazie a tutti. 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 Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, a tutti. a tutti. va No, no, no. Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua così Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua Io sono arrivato a un livello ragazzi di tantezza incredibile Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua 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 Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua Sì, sono incasinato perché mi sono messo qua Sì, è il turno che mi sono messo qua right, perché mi sono messo qua No, 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 no. va bene io farei così ragazzi primo risparmiamo un po' di ciao ragazzi allora io ho fatto un po' di gold rush ho lavorato parecchio sono stanchissimo con l'escavatore a pulire grate e quindi direi che per questa live stasera è tutto e noi ci vediamo ragazzi assolutamente domani pomeriggio con il mitico horizon forbidden west che è qualcosa di stratosferico ok ragazzi quindi io adesso ho finito questo due tappetini qua allora questo gioco è bello graficamente vecchio ciao ragazzi benvenuti comunque però al suo fascino ridico la verità poi ho guardato tutte le serie quindi conosco parker's enable il mitico mi dispiacito tantissimo quando suonano è morto questo foglielino ma porca no ne è ok dove accendo va cazzo come si accende sta macchina qui qua la piccola i tuoi prezzi ok no qua la piccola ok qui e raga ha fatto su un casino che ho buttato le gratte giù ma è veramente un casino ciao mitici benvenuti a questa live fichissima su gold rush che la continuiamo un'altra volta perfetto che figata vediamo qua perfetto 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 grande secchiello qui si lavora ragazzi eh si lavora veramente di brutto no ok ok questo credo che c'è solo questo guarda prendo i secchi della canalina ok quindi adesso devo fare così secchi raccogli devo portarlo là certo che è pericoloso come tipo di lavoro eh devo dire la verità è un po' pericoloso scusa scusa adesso non mi metto più buttalo per terra cosa devo fare qua accendi la grande pompa dell'acqua la grande? ah quindi devo ritornare là questa roba per terra ok ok non devo scendere lui quindi c'è solo la pompa allora prima devo scendere questo qua ok 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 no raga io ho tolto la corrente e tutto mi sa eh sì per quello uno ve lo va ok dai comunque ragazzi diventa veramente tardi e sono tutto in voglia nero andiamo Marco e ragazzi fail ci vediamo domani mi raccomando pomeriggio con Horizon Forbidden Western circa verso le ore 13 più o meno ok The Gold Rush, The Game, Marco Drums Games Ruspatore è tutto abbiamo fatto un gran bel lavoro di oro stasera fatto bene io vi saluto mi raccomando io vi ricordo di seguire i miei su YouTube se li vedete Instagram TikTok e Twitch di commentare quando entrate nelle mie live ragazzi mi raccomando che so che siete dentro posso parlare con voi e possiamo fare delle belle serate attivate la campanellina commentate e un mi piace su YouTube e Twitch ciao a tutti amici miei a domani con Horizon Forbidden West verso la 1 di pomeriggio ok ciao amici miei comunque tutti i video tutte le mie live sono tutte su YouTube a presto ciao amici iscriviti al canale iscriviti al canale